E di 12 nuovi casi, 11 dei quali tracciati dall'Ast e un ricovero in rianimazione, il bilancio del coronavirus per la giornata di oggi in centro Abruzzo. La curva epidemiologica concede un po' di respiro agli addetti lavori, anche se la situazione è in continua evoluzione, alla luce dei numerosi e pericolosi fronti covid aperti. E il caso di Pratola, che seppur fa registrare oggi un solo nuovo caso, almeno 5 focolai attivi collegati a rispettivi nuclei familiari, senza alcun nesso tra loro, come già anticipato. Un quadro che configura, non sarò di allerta, anche se da quando si apprende è difficile che la cittadina Pelinia rientri già da questa sera nel novero dei comuni in zona rossa, ma sono in corso le valutazioni del caso. Il sindaco Antonella di Nino ha contattato nel frattempo già dalla serata di ieri il prefetto dell'Aquila Cinzia Teresa Torraco per un consulto sulle operazioni di controllo da parte delle forze dell'ordine che vanno intensificate in queste giornate. I cassi di oggi intanto sono stati accertati tre a Sulmone e Castel di Sangro, due a Pesco Costanzo, uno ciascuno a Pratola Pelinia e a Bugnara, Castelvecchio su Becuo. Un altro caso riguarda Raiano, ma solo sulla carta, nel senso che la donna risultata positiva e da tempo domiciliata a Pescara, mentre un'altra positività, scoperta le 25 test antigenici dell'ANA, è legata in qualche modo al fronte Pratolano. Altri pazienti oggi hanno stazionato nell'area triage dell'ospedale di Sulmona, mentre in nottata una 72enne di Campo di Giove era ricoverata nella medicina Covid di Sulmona ed è stata trasferita nella rianimazione Covid per la somministrazione della terapia intensiva specifica. Il suo quadro clinico insomma è peggiorato, tutti stanno facendo il tifo per lei. Sempre in giornata sono stati svolti i tamponi per diversi alunni delle classi in sorveglianza, per effetto non delle lezioni in presenza, ma del tracciamento ritroso, il cui esito è atteso per le prossime ore. Le scuole continuano ad essere le osservate speciali alla vigilia della scadenza dell'ordinanza regionale, anche se il contagio a catena degli ultimi giorni è prettamente legato ai nuclei familiari e comportamenti quotidiani poco virtuosi. Si rende necessario quindi tenere alta la guardia.